Siamo con Tiziano Ricci, operatore commerciale, titolare della nota realtà Ricci Pizzaioli e abbiamo raccolto alcune sue osservazioni, alcune sue rimostranze secondo le quali appunto a suo modo di vedere nella organizzazione del cartellone degli eventi natalizi Piazza Immacolata, la centralissima Piazza Immacolata non avrebbe avuto il giusto prestigio, il giusto spazio che merita alla luce appunto della centralità nell'ottica, nell'ambito di questi eventi organizzati dall'amministrazione comunale Io innanzitutto voglio dire che le mie polemiche sono state più che altro costruttive, non volevano essere distruttive come magari ha potuto interpretarle qualcuno, io volevo semplicemente dire che Piazza Immacolata è il cuore pulsante di Taranto e il fulcro che non si può decentrare il centro, questa è una cosa che non è possibile fare Io voglio sicuramente ringraziare l'assessore e l'amministrazione per queste belle luminarie che ha messo sulle palme di Piazza Immacolata però insomma siamo stati scippati di un albero che da anni è simbolo di Piazza Immacolata che stranamente quest'anno è in Piazza Carmine e abbiamo notato, non io ma molti altri operatori e colleghi che quasi tutti gli eventi sono spostati verso la fine di Via d'Aquino non mi sembra una scelta adatta, io ripeto parlo da comune cittadino perché io voglio essere definito tale perché mi reputo uguale agli altri né più né meno forse io parlo un po' di più, le cose non me le tengo e a qualcuno va giù, a qualcun altro non va giù Lei ha evidenziato il fatto che a prescindere dalle altre strade lei dice che Piazza Immacolata non ha avuto la centralità che merita Sì, ma non parliamo soltanto di Piazza Immacolata io mi sto riferendo a Piazza Immacolata Lei si è occupato anche di altre vie di Taranto Io mi interesso di tutta la città perché non è che da comune cittadino esprimo un parere un parere è quello di Piazza Immacolata che non ha avuto forse il giusto rispetto che merita un concerto il 22 della Magna Grecia per amor del cielo fantastica compagnia, sarà un concerto meraviglioso però mettere ad esempio la Col di Retti frutta e verdure in Via Mignogna che è praticamente in Piazza Immacolata voglio dire, secondo me ad esempio anche la pista di pattinaggio si poteva mettere in Via Mignogna comunque sia è un'attrazione che porta gente di conseguenza nel centro della città sarebbe stata secondo me logisticamente disposta meglio anche perché dislocata sotto il monumento ai caduti è un po' strano ma al di là di questo comunque personalmente non condivido, ripeto poi parlando con altri colleghi mi sono un attimino, io poi lo sai come sono fatto mi infiammo ecco non volevo creare assolutamente discorda fra me e l'assessore cosa si sente dire alla dottoressa Tilga, l'assessore allo sviluppo economico su questa vicenda, su questa situazione? su questa vicenda che sicuramente si potevano valutare le cose un po' meglio e si poteva un attimino anche sentire non solo le associazioni ma anche gli operatori che vivono giornalmente la realtà di Taranto che forse a volte anche le associazioni non sanno quindi di non relazionarsi soltanto con le associazioni magari anche col cittadino che vuole parlare come me ascoltare qualche consiglio non credo che faccia male questo è quanto chiediamo un appuntamento all'assessore Tilga io sono a disposizione per qualsiasi consiglio sono disponibile con tutti, lo sai mi conosce Luigi io sono sempre alle mie attività e chiunque mi vuole io sono disponibile per tutti a me non piace fare guerre inutili a me piace costruire e fare qualcosa di buono per la città ad esempio ho trovato inutile fare il villaggio di Babonatale al Molo Santiligio quando abbiamo la rotonda del lungomare il lungomare completamente abbandonato che è uno spazio immenso che secondo me si predisponeva molto meglio ma poi ripeto ci sono altre vie come via anfiteatro che sono da prendere come esempio dove i commercianti, i colleghi si sono addirittura autotassati per poter fare qualcosa durante l'anno e non sono stati calcolati non hanno avuto neanche un filo di luci insomma si poteva fare qualcosina forse situata un po' meglio questo è però io spero di accendere un riflettore che poi faccia un attimino vedere le cose meglio per il prossimo anno io auguro sempre un in bocca al lupo alla nuova amministrazione perché mi rendo conto che operare in una città come Taranto non è facile però ripeto forse parlare proprio con i commercianti che vivono maggiormente la situazione di Taranto o chi come me ha voglia e non ha paura di esporsi ecco secondo me non fa male questo dico io Ricci, altra questione è quella dei mercatini non si terranno più in Piazza Immacolata forse anche memori dell'esperienza dello scorso Natale che pure creò una serie di problematiche ma non lo so io mi auguro che la motivazione non sia quella perché lo scorso anno c'erano delle problematiche importanti che abbiamo sollevato io parlai anche con l'organizzatore che era il signor Rubino lui ogni volta stava a girarla sotto il punto di vista della campagna politica ma non è così assolutamente perché c'erano delle problematiche e io ho fatto luce su queste problematiche che era il fatto della totale assenza dei bagni pubblici che era il fatto che comunque sia i mercatini erano disposti in maniera totalmente coprente nei confronti delle attività commerciali che non c'era nulla di relativo all'artigianato e all'enogastronomia ma si scimmiottavano in buona sostanza gli stessi prodotti che vendevano che realizzavano le attività commerciali della piazza questo fu anche uno dei punti di maggiore polemica questo è un altro punto ma anche il punto del cucinato in piazza della carne rosta in piazza che comunque sia voglio dire entrava nelle case delle persone non mi sembrava una cosa assolutamente normale dato che comunque sia faceva parecchio fumo e quell'odore di carne non la chiamerei pozza un profumo un odore di carne è rimasto comunque sia nella piazza per due o tre giorni anche dopo l'evento quindi c'erano alcune cose che non mi sembravano idonee forse sarebbe stato opportuno rimodulare il tipo di mercatini la tipologia se a Natale scorso il signor Rubino si fosse relazionato con noi operatori del settore probabilmente sicuramente si sarebbe potuto organizzare meglio comunque sia stato un successo mi sembra lo scorso anno c'è stata tanta gente quindi non mi sembra il caso di rieprire discorsi chiusi quest'anno non so se è lui che organizzerei in piazza Caribaldi o meno però ci saranno altri mercatini lì e niente questi sono gli eventi che ci saranno a Taranto c'è da sperare bene è quello che ci auguriamo purtroppo come puoi vedere l'atmosfera natalezia ancora non si respira parla soprattutto di piazza immacolata parlo un po' di tutto parlo un po' per tutto il centro non si respira ancora l'atmosfera natalezia sicuramente magari il tempo non ci aiuta perché questi giorni di freddo di pioggia non ci stanno aiutando però ecco forse è l'animo dei commercianti che è un po' giù speriamo che si risollevi con questa programmazione natalezia che hanno appunto stilato e per il prossimo anno vedremo di fare meglio io sono a disposizione ci sono degli amici che presenteranno un programma per un evento più che altro per il periodo dell'epifania inerente al cioccolato speriamo che verrà approvato comunque sia l'assessore mi è sembrato disponibile perché ha detto che il programma è sempre aperto quindi speriamo che venga inserito anche questo poi lei ha destinato piazza immacolata a eventi culturali così mi è stato detto se così fosse a questo punto mi aspetto ci aspettiamo noi tutti i cittadini una programmazione degna dell'importanza di piazza immacolata di eventi culturali questo è quanto